Una vita anticipazioni. Rosina e Carmen diventano le nuove proprietarie del ristorante Siglo XX. Cerchiamo di capire nel dettaglio tutto quello che succederà. Come già anticipato nel video precedente, la famiglia Olmedos lasciano definitivamente Acacias, subito dopo il fallimento della rapina a casa di Marcos Bacigalupe. Miguel deciderà di partire per la Svizzera, ma prima invia una lettera a Felipe con pleni poteri perché si occupi della vendita del ristorante. Rosina si dimostrerà interessata a comprare l'azienda, ma Carmen spingerà Ramon a chiudere l'operazione di acquisto prima di Liberto. Carmen e Rosina andranno in contrasto e inizieranno a litigare per l'acquisto del locale. Per porre fine ai confronti tra le rispettive mogli, Liberto e Ramon prendono una decisione. Dobbiamo acquistarlo insieme e diventare soci. Preghiamo che la nostra idea funzioni davvero, dice Ramon alquanto dubbioso. Quando Carmen scopre che deve dirigere l'istituto con Rosina, andrà su tutte le furie. Sarà un completo disastro, non voglio lavorare con lei. Una frustrazione condivisa con la sua vicina, anche lei dubbiosa con la condivisione degli affari. Tuttavia, le due donne decidono di provare a andare d'accordo. Il giorno dopo si mettono al lavoro e iniziano a preparare i dettagli dell'inaugurazione della loro nuova sede. Cosa succederà da qui in poi? Come andrà a finire la società tra Carmen e Rosina? Per scoprirlo, non ci resta che aspettare il prossimo episodio. Le anticipazioni terminano qui. Per non perdere altri video, iscriviti al canale.